Con la signora Cinza Iaracitano della Tonno Callipo Calabria Volley, questa sera qui al Palla Valencia, un'iniziativa che racchiude un connubio di successo tra sport, cultura e solidarietà con questo concerto del noto pianista Roberto Giordano. Sono felicissima, diciamo che siamo contentissimi per quello che abbiamo realizzato, soprattutto per il fine e poi più che altro per dare anche valore a un talento nostro del Vibonese che magari ai molti non era conosciuto. E dunque questo è un momento, io dico quasi di gloria anche per Vibbo, grazie al maestro Giordano che ha voluto omaggiare la città di Vibbo Valencia. E noi della Volley Tonno Callipo abbiamo messo a disposizione il nostro palazzetto perché pensiamo che oltre allo sport abbinare insomma un discorso di cultura e solidarietà è la nostra filosofia, è il nostro insomma modo di vivere, di pensare. E dunque speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di questi eventi. Grazie. Grazie.